Buonasera a tutti, allora cominciamo, apriamo ufficialmente l'evento, grazie mille di essere venuti al primo incontro della Rassegna dopo l'avventura, perché questo titolo? Perché la Rassegna prende ispirazione dalla mostra che è qui accanto, una mostra che si chiama l'avventura della moneta, promossa dalla Banca d'Italia in collaborazione col Palazzo dell'Esposizione e curata da Paco Lanciano, che molti di voi conosceranno per i suoi trascorsi a Superquark. La mostra chiaramente è stata allestita come anticipazione di quello che sarà tra un paio d'anni o poco più il nuovo Museo della Banca d'Italia, che mira a diffondere la cultura monetaria e finanziaria per tutti, sia i ragazzi delle scuole, sia le persone che ne vorrebbero sapere di più, sia le persone che non ne sanno nulla. Quindi tutti noi abbiamo cercato di uscire un po' dai nostri panni di banchieri centrali, che suonano un po' austeri, suonano un po' severi, e di cambiare anche il nostro linguaggio per cercare di arrivare a tutti, di rinunciare un po' a tutti quei tecnicismi che ci fanno sentire al nostro agio, ma che alla fine ci impediscono di parlare con il pubblico. Ecco, stasera questo incontro prende proprio spunto da una delle tematiche, dalla principale in verità, che è esposta nella nostra mostra, l'avventura della moneta. Stasera infatti parleremo di moneta e politica monetaria. E quindi è con grande piacere che do il benvenuto al dottor Giuseppe Ferrero, che è uno studioso della Banca d'Italia, lavora a quello che si chiamava una volta il servizio studio della Banca d'Italia dal 2002, ha conseguito il PhD in economics dall'Università Pompeo Fabra di Barcellona, e si occupa appunto principalmente di temi legati alla moneta e alla politica monetaria. E stasera appunto ne affronterà vari. Poi, insomma, dottor Ferrero, ha piacere che voi possiate interromperlo, interagire. Se c'è qualche concetto che vi interesserebbe approfondire, sentitevi liberi di alzare la mano, vi verrà dato un microfono e potete tranquillamente interagire con lui. Quindi speriamo che questa possa essere una serata interessante e che arricchisca tutti quanti. Grazie mille. Passo la parola a dottor Ferrero. Grazie mille. Ribadisco, interrompete e interagiamo se avete domande, questioni, spunti. Dunque, io mi occupo di politica monetaria, prevalentemente la Banca d'Italia. Una banca centrale ovviamente ha diverse funzioni, ma io direi che tutte le principali funzioni di una banca centrale hanno a che fare con la moneta, o come vedremo con diverse forme di moneta. E in particolare la banca centrale ha tre compiti principali. Uno è la politica monetaria, quindi si occupa di preservare il valore della moneta nel tempo. Una moneta che ovviamente è legata a ciò che lei emette come moneta, innanzitutto. La seconda funzione importante è quella della vigilanza e della regolamentazione, prevalentemente bancaria. E come vedremo parlando questa sera, le banche emettono quella che è la principale moneta che utilizziamo tutti i giorni. E quindi attraverso la vigilanza e la regolamentazione cerca di preservare anche il valore di quest'altra moneta. Infine c'è la gestione del sistema dei pagamenti. Di nuovo, il sistema dei pagamenti è, diciamo, l'insieme di tecnologie, di regole attraverso le quali noi scambiamo, trasferiamo la moneta. Ma quindi per parlare di politica monetaria e di tutti questi altri aspetti bisogna partire dalla moneta. Spesso si fa un errore. Quando ci si chiede cosa c'era prima della moneta, se io adesso chiedessi a voi cosa c'era prima della moneta, so già qual è la risposta che mi dareste. In genere la risposta è il baratto. Ora, cos'è il baratto? Il baratto è uno scambio di beni o servizi che avviene contemporaneamente, l'uno con l'altro. Adesso cercherò di convincervi che questa spiegazione di cosa c'era prima della moneta è una spiegazione che è poco realistica. Non abbiamo certezza di ciò che c'era prima, ma è abbastanza verosimile che non ci fosse il baratto. O meglio, il baratto magari c'era in determinate situazioni molto particolari. Immaginatevi un villaggio in cui ci sono solo due famiglie, quella del contadino e quella del pescatore. Il contadino ha un albero e questo albero produce mele. Il pescatore va a pesca. Ora, come ben sapete, le mele non crescono tutto l'anno sull'albero e se io cerco di metterne da parte un po', dopo qualche giorno marciscono. Allo stesso modo il pesce non possa andare tutti i giorni a pescare, dipende dal tempo, dipende da tante cose. Ecco che già qui capite che se effettivamente prima della moneta ci fosse stato il baratto, cioè questo scambio contemporaneo di beni e servizi, oggi noi non saremmo qua. Probabilmente questo villaggio sarebbe sparito nell'arco di poco tempo. Infatti quello che è importante capire è legato alla nascita poi della moneta è qualcosa di diverso. Ha sempre a che fare con lo scambio contemporaneo di beni e servizi. O meglio, ha sempre a che fare con lo scambio di beni e servizi. Ma non è contemporaneo. Ciò che c'era probabilmente prima della moneta era il credito. Io, contadino, avevo le mele oggi, una parte le consumavo, le mangiavo, una parte le utilizzavo per poter consumare altro in futuro. Quindi le cedevo oggi al pescatore che non aveva il pesce in cambio di un accordo. Un accordo di nel tempo, tu pescatore, tra una settimana o quando è, mi darai poi uno o due pesci. Questo è cruciale perché quando parliamo di credito, anche queste forme primordiali di credito, subito subentra, subito entra un elemento molto importante, che è la fiducia. Cioè io mi devo fidare che se oggi facciamo un accordo, io contadino e tu pescatore, se facciamo questo accordo, devo essere quasi certo che poi tu lo rispetterai. Chiaramente in un villaggio piccolo questo accordo veniva sempre rispettato. Perché? Perché se veniva violato, la volta successiva non facevamo uno scambio e quindi era necessario rispettare gli accordi. Inoltre in questo villaggio la tecnologia che c'era per tener traccia di questi scambi nel tempo era molto semplice. Dovevamo semplicemente ricordarci, siamo in due, ci ricordiamo oppure scriviamo da qualche parte o abbiamo un modo di comunicare che ci permette di tener traccia di questi scambi. E poi c'era una terza cosa. C'era una terza cosa che ad entrambi piaceva, o per forza o per necessità, o perché ci piaceva, ciò che l'altro produceva. Quella che in economia si chiama la doppia coincidenza dei bisogni. A te che produci pesce va benissimo a mangiare le mele, perché se non mangi le mele muori, e viceversa. Ecco, in quell'economia molto semplice, in cui gli accordi venivano sempre rispettati, questi accordi nel tempo, in cui c'era una tecnologia molto semplice per tenere traccia degli accordi, e in cui c'era questa doppia coincidenza dei bisogni, ecco che venivano fatti tutti gli scambi che volevamo fare senza necessità di quella che poi nasce, cioè la moneta. La moneta quindi nasce quando la società diventa più complessa. Non ci sono più solo due famiglie, non c'è più solo un villaggio. Se io domani non ti ridò quello che avevamo detto che dovevo darti, il pesce o la mela, vabbè c'è un altro villaggio, cercherò qualcun altro e cercherò di avere la capacità di fare degli accordi con qualcun altro. Anche la tecnologia per tenere traccia di tutti gli scambi inizia a essere difficile da avere a quei tempi. Ecco quindi che diventa anche difficile tenere traccia degli scambi. E poi c'è la doppia coincidenza dei bisogni non è più necessario, adesso c'è anche qualcuno che produce le pere o altri frutti o altri beni che posso consumare. Quindi può non andarmi bene ciò che tu produci. Ecco che in quell'economia molti degli scambi che prima venivano fatti non vengono più fatti. E' a quel punto che nasce la moneta. E la cosa interessante della nascita della moneta è che all'inizio la moneta è costituita da oggetti che hanno di per sé un valore. Ad esempio le conchiglie. Le conchiglie, i ragazzini giocavano sulla spiaggia con le conchiglie e quindi quelle avevano di per sé un valore. Capo villaggio a un certo punto dice ma tengo io tutte le conchiglie, le prendo, le raccolgo, voi giocate con qualcos'altro e le distribuisco alle famiglie del villaggio. E adesso ogni volta che vi dovete scambiare del pesce, delle mele o qualcos'altro, anziché fare degli accordi nel tempo che poi possono essere violati, ecco che vi scambiate una conchiglia o due conchiglie, un certo numero di conchiglie. Cioè la conchiglia diventa moneta, moneta-merce. E anche se poi, appunto, perché l'accetto? Perché io in cambio di una mela accetto una conchiglia? Perché in futuro mi aspetto di poter essere io a utilizzare quella conchiglia per comprare qualcos'altro. Cioè mi devo fidare del fatto che gli altri accettino a loro volta queste conchiglie, questo tipo di moneta. Questo è molto importante perché già mette in campo degli aspetti che sono fondamentali quando si parla di moneta. Questi aspetti sono, come ho detto, la possibilità di spostare nel tempo capacità di comprare beni e servizi, cioè quella che in economia si chiama riserva di valore. Io accetto una conchiglia che ha un suo valore, indipendentemente che mi piaccia o meno la conchiglia, ma un valore perché mi permette di spostare nel tempo la mia capacità di acquistare beni e servizi. Quindi la moneta è innanzitutto riserva di valore. Nell'economia però abbiamo tantissime altre riserve di valore. Che ne so, ad esempio un quadro, una casa, o oggi anche altre forme, ma già da tanti anni, altre forme di riserva di valore. Ad esempio un titolo di Stato o un'obbligazione emessa da un'impresa. Tutte queste sono riserve di valore, ma si distinguono dalla moneta perché la moneta è l'unica tra tutte le riserve di valore che io posso scambiare in qualsiasi momento, in cambio di beni e servizi, effettivamente per il suo valore. Cioè in economia si parla di riserva di valore più liquida che c'è nell'economia. La liquidità significa semplicemente un termine che sentiamo spesso, ma liquidità, o riserva di valore liquida, significa che io posso trasformare questa determinata riserva di valore in beni e servizi in qualsiasi momento per il valore effettivo di questa riserva di valore. Immaginatevi ad esempio di dover comprare un frigorifero e questo frigorifero costa 200 euro. Immaginatevi anche che a casa avete un quadro. Un quadro, come ho detto, è una riserva di valore. Cioè se io voglio lo posso vendere un giorno e ottenere moneta con la quale comprare beni e servizi. Immaginatevi di andare dal venditore del frigorifero con questo quadro che tutti sanno che vale 200 euro. E il venditore del frigorifero, e gli dite, senti ti do questo quadro, tu dammi un frigorifero che vale 200 euro. Lui mi guarderà e mi dirà, ma no, io voglio 200 euro. Perché? Perché io posso anche accettarlo, lo so che vale 200 euro quel quadro, ma sarò poi io, venditore di frigorifero, che quando un giorno, quando vorrò trasformarlo in altri beni e servizi, dovrò avere la fortuna di trovare qualcuno che effettivamente lo accetta in cambio di beni e servizi per quel valore. Quindi ho bisogno di tempo. Oppure il venditore del frigorifero vi potrà dire, ma guarda, per 200 euro questo frigorifero non te lo do per quel quadro. Però ce n'ho un altro che vale 150 euro, ti darò questo qui. Cioè ti faccio pagare il costo che avrò io poi di dover, a mia volta, cercare qualcuno che accetterà questo quadro al posto di beni e servizi. Questo concetto di o aspetto del tempo, o sono disposto oggi ad accettare un valore inferiore, è ciò che si definisce qualcosa di poco liquido, o meno liquido della moneta. Ecco quindi la moneta tra tutte le riserve di valore è quella più liquida. E quindi anche mezzo di pagamento. Infine la moneta cos'è? È una terza cosa che mi permette, se pensiamo alle conchiglie, nel mio esempio, io ti do una conchiglia in cambio di una mela, e tu poi mi darai due conchiglie, o io ti darò due conchiglie in cambio di un pesce, ecco che il numero di conchiglie è un'unità di misura. E che cos'è che misura quindi la moneta? Misura il valore che la società attribuisce in un dato momento a diversi beni e servizi. Una bottiglia d'acqua oggi costa un euro, un iPhone costa 800 euro, ecco che quell'un euro e quell'ottocento euro sono il valore che la società attribuisce in un dato momento a diversi beni e servizi. Quindi la moneta, la cosa interessante è proprio questa, che è riserva di valore ma poi la utilizzo, la utilizzo per comprare altri beni e servizi. Ma finché la moneta era moneta merce, quindi ad esempio le monete d'oro, che aveva un valore di per sé, io anche se poi dopo qualche giorno non trovavo qualcuno che accettava questa moneta in cambio di beni e servizi, avrei comunque potuto utilizzare l'oro di quella moneta per fare altro, magari creare dei gioielli e poi rivenderli. Oggi, esalto tutta la storia... Ti posso interrompere prima che sveli il mistero? No, vai, vai. Forse qualcuno si sta chiedendo magari, questa moneta merce, com'è che si sceglie... Hai parlato di conchiglie, le conchiglie sono state una delle più diffuse forme di moneta al mondo, su quasi tutti i continenti praticamente. Perché la conchiglia? Perché ogni materiale che si andava a scegliere aveva un significato simbolico, la conchiglia viene dal mare, quindi l'origine della vita, anche una certa forma che ricorda l'organo genitale femminile, quindi era un simbolo di fertilità, oppure l'utilità. Pensiamo alle pecore, pensate alla parola pecunia, le pecore erano soldi in alcune società, l'orzo nell'antica Mesopotamia, quindi ognuna di queste monete, monete merce, aveva delle caratteristiche che le rendeva facilmente misurabili, facilmente contabili, quindi particolarmente adatte a questo tipo di transazione. Esatto, e qua iniziamo a introdurre un po' di politica monetaria, in modo molto indiretto, però qual è il problema con questo tipo di monete? Ad esempio le monete d'oro. Le monete d'oro sono fatte d'oro. Oppure le conchiglie. Le conchiglie le raccolgo sulla spiaggia, ma hanno tutte e due una caratteristica. La caratteristica è che la quantità di conchiglie o di oro che c'è in un dato momento, non lo posso controllare io. Cioè il capovillaggio non può decidere quante conchiglie ci saranno domani, dopo domani, perché quelle dipende dalla natura, così come l'oro. Di oro ce n'è una quantità determinata, fissa in un dato momento. Posso magari andare a cercarne di più, ma può anche essere che non lo vado a trovare. Quindi cos'è che ha di per sé questo tipo di moneta? Questo tipo di moneta ha quello che in economia possiamo definire come un problema legato all'offerta di un certo bene o servizio, in questo caso di un mezzo di pagamento, che è un'offerta che non dipende da nessuno, o non dipende soprattutto da chi gestisce l'ordine, diciamo, della gestione della moneta. Faccio un esempio, perché immagino non tutti siate economisti, ma per capire il senso di questa cosa. Immaginate che nell'economia, l'economia, tutta l'economia, sia costituita solo da un albero. E questo albero è in grado solo di produrre dieci mele. Immaginatevi che in un dato momento il numero di mele, queste dieci mele, ha un prezzo. Stabiliamo che ogni mela costa un euro. Immaginate dieci persone che vanno dal contadino, che è il proprietario dell'albero delle mele, ognuno va con un euro dal contadino, ognuno dà un euro al contadino, il quale gli dà una mela. E se immaginatevi che invece che dieci persone, arrivino venti persone, ognuna con un euro. Vanno dal contadino, il contadino li conta, li vede davanti a sé, guarda l'albero, l'albero c'è solo dieci mele. Cosa fa il contadino? Il contadino, che è una persona per bene, non dà solo una mela ciascuno a dieci persone e le altre le lascia morire di fame. Il contadino è una brava persona, taglia le mele in due e dà a ciascuno mezza mela. In cambio si fa dare un euro e l'unica cosa quindi che succede in questa economia è che quando ci sono tante persone che domandano, quindi ognuno una mela, ma le mele sono fisse, non può averne 20 in quel momento il contadino, ciò che succede è che il prezzo di quella mela raddoppia. mezza mela un euro, due metà di una mela due euro. Ecco quindi che quello che voglio dirvi è che quella tipologia di moneta, che si chiama moneta merce, e che è costituita di qualcosa, ripeto, l'oro, o le conchiglie, dove l'offerta, la quantità che è disponibile, non può cambiare secondo, in funzione di quante persone hanno bisogno di quella moneta, ecco che quello che succede è che tendenzialmente avremo che il prezzo, il valore di questa moneta cambia molto nel tempo e cambia in funzione della domanda. Oggi si parla molto di una, che alcuni definiscono una criptomoneta, in realtà è una criptoattività, bitcoin. Bitcoin è un esempio molto interessante di, diciamo, di riserva di valore. È una riserva di valore poco liquida. Perché? Dove, in questo senso, liquido intendo che abbia un valore abbastanza fisso nel tempo, stabile. Perché una delle caratteristiche di bitcoin è che la quantità di bitcoin che vengono emessi, nuovi, ogni giorno, è prestabilito. C'è una formula matematica dietro che stabilisce esattamente quante nuove unità di bitcoin vengono create ogni giorno. E questa quantità, questa formula matematica che stabilisce quante ne vengono create, è fatta in modo tale che si riduca sempre di più nel tempo il numero di nuove unità di bitcoin che vengono create. fino ad arrivare a un certo anno, che non mi ricordo se è il 2030, non lo so, a un certo punto questo algoritmo stabilirà che non verranno più create nuove unità di bitcoin. e in qualche modo, se vogliamo, in modo immaginario, in questo è molto simile all'oro. Anche dell'oro ce n'è una quantità prestabilita o fino a che non ne trovo altro. Quindi, infatti, anche il concetto dietro a bitcoin di chi ottiene le nuove unità di bitcoin che vengono create, si chiamano i miners, i minatori, che richiama proprio questo concetto dell'oro. Però, la cosa, diciamo, simile quindi con questa moneta merce, poi altri aspetti molto diversi, ma con queste monete merci che avevano una quantità prestabilita o comunque non dipendente dalla domanda, il valore di bitcoin, se andate a vedere, cambia da un giorno all'altro tantissimo. E cambia in funzione di cosa? Cambia semplicemente in funzione della domanda che c'è in quel momento di quella determinata cosa. Quindi, quando c'è tanta domanda di quella moneta, di quell'attività, in questo caso, il prezzo sale, il valore sale. Quando ce n'è di meno, il prezzo scende. Quindi, è qualcosa che ha un valore che cambia continuamente nel tempo. E quando c'è una moneta di questo tipo, è un problema, così come il problema c'era con la moneta merce. Il valore che c'era di queste monete merce, quando le scambiavo con altre monete, cambiava continuamente. E questo non è un buon indicatore per una moneta. E qui subentra... Tant'è che Draghi, ha detto anche, interrogato sulla questione, quando era presidente dell'ABC, disse, il bitcoin non è, addirittura si spinse a dire una cosa ancora più estrema, il bitcoin non è moneta, è un prodotto speculativo. Cioè, non è moneta come la intendiamo noi oggi. Ma è assolutamente vero, cioè, è proprio la conseguenza di quello che ho detto, cioè, può essere una riserva di valore, cioè, io la posso acquistare nella speranza, ad esempio, che il suo valore aumenti nel tempo. Ma se io lo compro oggi con questa speranza, ne faccio una riserva di valore. Ma abbiamo detto che la moneta è qualcos'altro, è anche mezzo di pagamento, cioè qualcosa che io in qualsiasi momento posso decidere di utilizzarlo per comprare beni e servizi. Se io faccio un investimento, ad esempio, in bitcoin, sperando che il suo valore aumenti nel tempo, oggi non lo utilizzo, ovviamente, lo tengo da parte come riserva di valore. Non è moneta. Concordo, non è proprio moneta. E qui subentra, quindi, non è moneta, ma che coperti. Eh, questo stavo dicendo, è qualcosa che uno spera che acquisì, che mantenga o abbia un valore nel corso del tempo. Poi tornerò su questo che cos'è, perché c'è un altro elemento secondo me molto importante che ci fa dire che non solo non è moneta, è eventualmente una riserva di valore, ma la sua caratteristica è che è una riserva di valore solo fin tanto che c'è qualcuno che lo domanda. Allora, dobbiamo chiederci perché qualcuno lo domanda. E su questo torneremo. ma prima serve un altro pezzettino perché io finora vi ho parlato della moneta quasi più in termini di tecnologia. Di tecnologia nel senso che la moneta merce, la moneta c'è una tecnologia, perché una tecnologia? Perché abbiamo detto che la moneta sostanzialmente nasce nel momento in cui non si riesce a fare qualcosa, non si facevano più degli scambi perché non ci fidavamo, perché non eravamo in grado di tenere traccia degli accordi che facevamo, quindi nasce proprio come una forma di tecnologia, qualcosa che risolve un problema. Ma oltre alla tecnologia le principali sistemi diciamo monetari e dei pagamenti si fondano su un'altra cosa anche. Scusate perché la tecnologia di per sé ha sempre degli elementi di incertezza. Immaginatevi che decidiamo che che ne so che un foglio di un giornale oggi decidiamo che d'ora in poi paghiamo con dei fogli di giornale. Qual è il problema? Che se io devo comprare devo vendere qualcosa, una mela innanzitutto devo fidarmi che quel foglio di giornale è effettivamente quello che abbiamo stabilito essere moneta. Così come oggi con una banconota ad esempio quando io l'accetto in cambio di qualche bene che ho prodotto o servizio devo fidarmi del fatto che effettivamente quella è una banconota. ma non solo mi devo anche fidare del fatto che questa banconota in cambio della quale io oggi ho ceduto ad esempio una mela che ho prodotto e beh questa banconota in futuro dovrà essere in grado di farmi avere perlomeno quella stessa mela perché se no io oggi non rinuncio a una mela che do a te per un pezzetto di carta per un foglio se non perché in futuro appunto riserva di valore perché in futuro io spero mi fido del fatto che qualcun altro lo accetterà per quel valore quindi c'è un'incertezza anche sul fatto che il suo valore rimanga nel tempo e poi quando di solito c'è una transazione io do una moneta a te in cambio di beni e servizi cos'è che sta accadendo veramente tra noi si sta sciogliendo quel rapporto di credito che avremmo avuto se non c'era la moneta cioè io nel momento in cui accetto la moneta e ti do una mela ti libero da ogni obbligo nei miei confronti prima ci sarebbe stato l'obbligo di dopo qualche giorno mese dovevi darmi un pesce invece in quel momento in cui avviene questo scambio tra la moneta e un bene sta anche avvenendo qualcos'altro chi cede chi ottiene la mela si sta liberando dall'obbligo futuro di fare qualcosa per te mi libero nel momento in cui ti do questa moneta questa banconota ecco che quindi anche lì c'è un'incertezza ed è questo il motivo per cui di fianco alla tecnologia nella storia della moneta la tecnologia permetterà di cambiare quindi tipologia di moneta si passerà dalla moneta merce a moneta rappresentativa cioè una moneta che di per sé non ha nessun valore immaginatevi quelle che si chiamavano le note di deposito note di deposito nel rinascimento forse anche prima le fedi di credito sono erano dei sostanzialmente nel rinascimento anche questo avveniva i cosiddetti banchi cos'è che succedeva il mercante aveva delle monete d'oro andava dall'orafo all'inizio poi dopo dal banco dava queste monete d'oro e in cambio otteneva un pezzetto di carta quel pezzetto di carta sostanzialmente ti dava diritto ad avere monete d'oro a un certo punto inizialmente gli scambi venivano sempre solo fatti con le monete d'oro quindi il mercante quando doveva andare a comprare della mercanzia tornava al banco o dall'orafo restituiva questa nota di deposito otteneva le monete d'oro e poi le utilizzava quindi erano sempre le monete d'oro ad essere moneta quella ricevuta era semplicemente una riserva di valore ma non veniva utilizzata come mezzo di pagamento a un certo punto i mercanti si rendono conto che forse è più efficace più veloce e meno rischioso scambiarsi direttamente questo pezzetto di carta senza andare ogni volta a prendere le monete d'oro ed ecco che un pezzetto di carta quindi una forma di moneta diventa moneta ma è una moneta non più merce non più che ha un valore di per sé ma una moneta che rappresenta valore infatti si chiama moneta rappresentativa delegata al fatto che rappresentava un diritto ad ottenere quelle monete d'oro che invece avevano di per sé un valore quindi lì c'è una nuova tecnologia poi si evolve ulteriormente tutto questo ma su questo punto mi interessava appunto parlare di tecnologia che ripeto essendo tecnologia porta con sé dei gradi di incertezza di cui vi ho detto prima ecco allora che nascono a un certo punto delle istituzioni che hanno sostanzialmente la funzione di ridurre tutta questa incertezza quindi la banconota emessa dalla banca centrale ha delle caratteristiche specifiche che se sono in grado di riconoscere so che per certo quella è moneta ma non solo ha questa funzione la banca centrale ti risolve o dovrebbe risolvere diciamo che la sua funzione dovrebbe essere quella anche di far sì che tu ti fidi oggi a prendere quel pezzetto di carta che di per sé non ha nessun valore per ottenere in cambio di beni e servizi perché tutti aspetti di in futuro come ho detto di poter incontrare qualcun altro che lo accetti in cambio di beni e servizi la legge può importi può imporre che quel pezzetto di carta deve essere sempre utilizzato in cambio di beni e servizi si chiama corso legale e le banconote ancora oggi hanno questo corso legale ma non basta questo non mi basta sapere di poter trovare qualcuno che l'accetti io voglio essere abbastanza certo di trovare qualcuno che l'accetti e che lo accetti e in cambio mi dia una quantità di beni o servizi simile a quella a cui io ho rinunciato oggi nel momento in cui te li ho dati in cambio della banconota ecco quindi che diventa fondamentale con questa tipologia di moneta che non ha un valore di per sé diventa fondamentale che ci sia un modo per far sì che il suo valore sia più o meno stabile nel tempo e la politica monetaria sostanzialmente mira a questo a far sì che il valore della moneta che è questa tecnologia di cui abbiamo parlato che è fondamentale per fare gli scambi in un'economia complessa mantenga un valore costante sostanzialmente stabile nel tempo ti posso fermare un attimo su questo due ragioni una quasi pubblicitaria nel senso che questi strumenti antichi di cui hai parlato che sono gli antenati della banconota in qualche modo li trovate nella mostra appunto nell'avventura della moneta in originale perché nel medioevo iniziano a circolare anche in modo massiccio e secondo punto è una domanda che ti volevo rivolgere che se ci spieghi meglio il perché all'inizio sulle monete c'è l'effigie del sovrano e oggi invece troviamo il nome della banca centrale che prima quando c'erano le lire era la banca d'Italia adesso è la banca centrale europea questa è una domanda molto sottile che parla dell'indipendenza dell'istituzione che è preposta alla gestione della moneta cos'è che accadeva spesso quando come dicevi tu inizialmente sono i sovrani a emettere le monete e le monete erano appunto monete d'oro d'argento ma cos'è che succedeva molto spesso succedeva che c'erano delle guerre e i sovrani dovevano finanziare queste guerre e per farlo si indebitavano indebitarsi in questo caso vuol dire per esempio che io mi indebitavo per cento monete d'oro la gente il popolo chi chiunque dava queste cento monete d'oro al sovrano il quale in cambio dava un pezzetto di carta che diceva guarda tra un anno io ti restituirò queste cento monete d'oro più cinque monete d'oro cioè questo qui è il concetto di tasso di interesse tu mi dai qualcosa oggi e io in futuro te lo ridò ma anche un pezzo in più qualcosa in più ma cos'è che escogitano a un certo punto molti sovrani soprattutto in Europa escogitano quella che oggi si chiama svalutazione e che era allora era molto semplice da fare con questo tipo di monete tu mi hai dato cento monete io te ne devo ridare cento e dieci tra un anno sai cosa faccio gratto via un po' di oro dalla moneta la rendo la svilisco si diceva proprio svilire la moneta e io te ne do cento e dieci senza problemi anzi ce ne ho anche altre esatto esatto anzi ne avrò anche altre cento magari create da questo svilimento e questo significa semplicemente che il sovrano in questo modo si finanziava si indebitava e poi che cos'è che faceva per restituire questo debito che poteva diventare molto grande svalutava il valore della moneta attenzione qui entrano dei concetti molto interessanti perché arriviamo anche a una storia abbastanza recente in tanti posti del mondo svalutare questo svalutare cioè questo rendere il valore della singola moneta più piccolo che cosa significa significa che poi quando il mercato la persona che riceveva queste monete doveva andare a comprare dei beni o servizi a quel punto con la nuova moneta che aveva svilita cioè più piccola beh gli altri mercanti non gli davano la stessa quantità di beni e servizi perché c'era meno oro quindi il valore di quella moneta appunto si svalutava si riduceva ma se avete capito il legame tra moneta come unità di conto di quanti beni e servizi posso ottenere con una moneta o di quante monete ho bisogno per ottenere un determinato bene e servizio questo significa che quello che accadeva nel concreto oggi parleremo di inflazione cioè l'inflazione che cos'è? è semplicemente il fatto che per lo stesso bene immaginiamoci questa bottiglia io all'inizio dovevo ti davo una moneta adesso te ne devo dare due il prezzo di questa bottiglia è raddoppiato questa è l'inflazione e l'inflazione veniva utilizzata proprio dai sovrani come forma per sostanzialmente ripagare il debito ma è rinforzato che prima era fermo eh si aspetti le possiamo dare il microfono così la sentono tutti è abbastanza simile lì dove voglio arrivare allora oggi infatti l'inflazione l'inflazione intanto è sempre concettualmente la stessa cosa nel senso che l'inflazione significa che con un certo quantitativo di moneta mettiamo un euro prima potevo comprare una mela adesso ne posso comprare solo mezza quindi il concetto di inflazione è lo stesso oggi però qual è il punto infatti è diverso il punto è più legato oggi a quell'esempio che ho fatto dell'albero e adesso entriamo entriamo nella politica monetaria però per entrarci entriamo proprio sì sì facciamola poi torno da viaggiatrice molto spesso andavo all'estero con delle sterline piuttosto che con il dollaro che rispetto alla lira italiana all'epoca era accettato dovunque una volta mi capitò di vedere che alcuni numeri di serie di dollari non venivano accettati in un paese estero ecco volevo capire che cosa è successo nella nella circolazione della moneta che alcune serie di appunto emesse venissero rigettate da alcuni paesi quindi adesso che oramai paghiamo tutto online con carte di credito non si vede più uno straniero a Roma che tira fuori soldi in contanti mi domando se è il caso di smaltire quei dollari e quelle sterline per evitare che diventino scusate il termine carta straccia grazie ma allora questo non ha certamente a che fare con la politica monetaria questo probabilmente ha a che fare col fatto che ogni tot periodo il diciamo una banca centrale può decidere di togliere dalla circolazione determinate banconote perché o perché sono rovinate non è questo il caso o magari erano facilmente falsificabili quelle probabilmente quella particolare numero di serie di banconote era un blocco di banconote che per qualche motivo era facile da replicare non aveva tutte quelle caratteristiche di certezza appunto che fossero effettivamente banconote per cui una banca centrale può decidere a quel punto di ritirarle dall'economia ovviamente le ritira dandoti in cambio un'altra banconota in genere a meno che non sia chiaramente falsa non lo so però quindi quello è più un aspetto proprio su quello dicevamo prima che la tecnologia comunque crea un'incertezza crea una possibilità di falsificazione in quel caso quindi magari quel blocco di banconote era stato fatto male e si sono accorti che venivano falsificate facilmente quelle banconote lì quindi la cosa più semplice probabilmente sarà stata di toglierle dall'economia e aggiungiamo magari anche che questo è anche un fattore il fatto che una banconota sia più facilmente o più difficilmente falsificabile è un fattore di fiducia o di sfiducia è un altro fattore di fiducia di sfiducia nella banconota per esempio l'euro è una delle banconote meno falsificate al mondo perché è molto difficile da falsificare e questo ci dà una certezza ulteriore e un'affidabilità ulteriore nel momento in cui lo utilizziamo torno non scappo dalla domanda perché è la più interessante la più complicata anche perché come dice lei è molto facile capire in quel mondo dove la moneta era moneta merce e in particolare una merce che era facilmente diciamo si poteva facilmente ridurre di quantità nella singola unità lì chiaramente è facile infatti non siamo più in quel mondo oggi infatti la moneta che utilizziamo come ho detto non è più moneta merce e non è moneta merce per la ragione che vi ho detto prima innanzitutto probabilmente in parte anche per questa ragione perché era facilmente da parte del sovrano modificabile ah scusate qui devo prima chiudere un pezzo perché la domanda tua era com'è che prima c'era l'effigie dell'imperatore e oggi c'è quello di diciamo la firma di una banca centrale questa è la principale ragione che se chi gestisce la moneta e anche chi in un certo senso gestisce la finanza dello stato ecco che avrà spesso questo incentivo a svalutare la propria moneta cioè a far sì che se oggi io te ne do 100 chiedendoti in prestito 100 euro ecco io ho un incentivo a far sì che con quei 100 euro che tu oggi puoi usare che io scusa scusi che io imperatore posso usare per comprare 10 cannoni e io ho un incentivo a far sì che quando tra un anno dovrò restituirti queste 100 euro per me stato non costi 10 cannoni ma costi 5 cannoni cioè io se e vedremo come ho un incentivo a inflazionare la moneta e la ragione rimane quella magari oggi non è più per le guerre finanziare le guerre anche se in parte ma è comunque per finanziare la spesa pubblica quindi da qui a un certo punto nella storia e la storia tu la conosci molto meglio di me però anche in Italia negli anni 80 ad esempio avviene quella che si chiama la separazione della banca d'Italia che assume l'indipendenza dal governo il divorzio e chi è preposto alla gestione della moneta deve essere indipendente quindi da quell'altro ramo diciamo dello Stato e non solo deve essere indipendente ma gli viene dato un mandato molto preciso e il mandato nell'ambito della politica monetaria è quello di preservare il valore della moneta se voi andate a vedere il trattato di Maastricht che è quello che istituisce sostanzialmente l'Unione Europea in cui viviamo beh nel trattato dove si stabilisce che la banca centrale europea sarà quella che gestirà la politica monetaria insieme alle altre banche centrali nazionali ebbene nel trattato viene detto che il compito primario della politica monetaria e preservare il valore della moneta lì viene scritto in modo diverso ma è la stessa cosa lì c'è scritto preservare la stabilità dei prezzi quindi non solo viene tolta viene tolta questa funzione dal governo come ho detto ma in più viene data un'istituzione alla quale viene dato il compito il mandato di preservare il valore della moneta da questa domanda non sfuggi perché una delle cose che fa impazzire i più che si informano e vedono che la stabilità dei prezzi si potrebbe immaginare come un'inflazione allo 0% i prezzi rimangono invece nello statuto dell'ABC l'obiettivo è un'inflazione al 2% perché? Allora qui entriamo in un aspetto di nuovo che magari risulta strano però spero di renderlo molto semplice allora l'inflazione quindi abbiamo detto è quando i prezzi aumentano ma ovviamente i prezzi non solo possono aumentare possono anche ridursi cioè ci può essere quella che si chiama la deflazione immaginatevi quel frigorifero di cui parlavo prima che vale oggi che costa oggi 200 euro immaginatevi che qualcuno vi dica guarda quel frigorifero c'è un altro venditore che lo vende a 150 euro cosa fate? andate dall'altro venditore e lo comprate per 150 euro ma adesso mettiamo invece che lo spazio il tempo immaginatevi che io vi dica oggi quel frigo costa 200 euro ma tra sei mesi costerà 150 euro voi cosa fate? aspettate sei mesi probabilmente per comprarlo almeno che non sia necessario però sono buone probabilità che voi decidiate di aspettare questo rende quella che apparentemente è una cosa bellissima caspita ma io posso comprare la stessa cosa a un prezzo più basso in futuro non è una cosa bellissima perché? perché non c'è solo il prezzo di quel frigorifero che tra un anno sarà più basso tra sei mesi sarà più basso tra sei mesi probabilmente sarà più basso anche il salario che ciascuno di noi percepisce sarà più basso il numero di frigoriferi che vengono creati e molto probabilmente quel frigorifero non sarà neanche disponibile perché l'impresa non avrà più la possibilità di produrlo cioè quando c'è deflazione cosa succede? poi devo entrare sugli aspetti più economici dell'inflazione però giusto per rispondere alla domanda sul 2% il 2% è perché nell'economia la deflazione è peggio che una tassa è veramente un male gigantesco perché perché immaginatevi ok quel frigo oggi vale 200 euro costa 200 euro io non lo compro aspetto sei mesi ma se nessuno compra per sei mesi molto probabilmente l'impresa ha solo due possibilità o riduce il numero di impiegati o riduce il prezzo di cosa del denaro scusate o riduce il salario di queste persone queste persone tra sei mesi avranno un salario più basso e quelli che prima potevano comprare il frigo con 200 euro tra sei mesi magari non avranno o saranno disoccupate perché non viene più prodotta nell'economia non vengono più prodotti quei beni oppure avrà un salario più basso a quel punto cosa succederà molto probabilmente poi entrerò sul meccanismo che si crea molto probabilmente i prezzi continueranno a ridursi ancora e se si riducono ancora si arriva a una situazione dove non solo si riducono i prezzi ma si riduce anche la quantità di beni che possono essere prodotti e l'occupazione in un dato paese o dove siamo quindi la deflazione è questo perché quello che è lo strumento che utilizza la politica monetaria del quale vi parlerò a brevissimo per contrastare queste variazioni dei prezzi l'instabilità del valore della moneta sono degli strumenti che mentre in una direzione siamo sempre in grado di utilizzarli quando i prezzi salgono gli strumenti ci sono sempre per contrastarlo quando i prezzi scendono quegli strumenti stessi possono diventare meno efficaci e qui voglio farvi una metafora su che cos'è la politica monetaria e su perché oggi che cos'è che succede nell'economia e che cosa fa la politica monetaria la metafora è la seguente immaginatevi che ci sia un laghetto tu tieni d'occhio i tempi perché no immaginatevi un lago un lago è al fondo di una valle e in questo lago ci sono dei pesci che si cibano di alghe che però queste alghe vivono solamente se la temperatura dell'acqua del lago è 25 gradi ovviamente cosa succede a volte c'è il sole forte e la temperatura sale altre volte piove o nevica addirittura o c'è il vento quindi questo lago la temperatura di questo lago viene colpito continuamente da eventi che potremmo definire non attesi difficili da prevedere ma tornerò su questo però sono degli eventi che modificano continuamente la temperatura del lago c'è un villaggio vicino a questo lago che si ciba del pesce quindi ha bisogno che questi pesci rimangano in vita cosa fa? c'è un gruppo di persone che viene mandata in cima alla collina che c'è sopra questo lago perché? perché sopra la collina c'è un altro bacino d'acqua dove appunto c'è dell'acqua che queste persone possono immettere attraverso un sistema di tubi di ighe direttamente nel lago devono però modificare la temperatura di quest'acqua cioè dovranno fare in modo che quando il vento quando si aspettano che nell'arco della giornata ci possa essere un vento freddo e quindi la temperatura del lago si abbassi beh dovrà cercare di scaldare l'acqua con del fuoco e fare in modo che quest'acqua quando poi arrivi al lago sia tale sia in termini di quantità sia in termini di temperatura tale da essere in grado di mantenere sempre stabile la temperatura dell'acqua nel laghetto la politica monetaria fa sostanzialmente questo l'economia possiamo immaginarla come quell'albero un albero che produce un certo numero di mele e a fronte di questo albero ci sono delle persone che vogliono cibarsi di queste mele ma la domanda mettiamo che da un lato la quantità che quell'albero può produrre può cambiare nel tempo perché magari c'è la grandine che mi distrugge una parte del raccolto quindi il numero di mele si riduce oppure può succedere che anziché avere solo dieci persone che vengono a chiedermi quelle mele un certo giorno ne ho di più che vengono e può essere che questo capiti un po' per caso anche cioè può essere che la domanda e l'offerta di beni e servizi nell'economia cambi per fattori che non posso stabilire all'inizio cos'è che fa la politica monetaria la politica monetaria è basicamente quello che fa è cercare di influenzare le decisioni di quelle dieci quindici persone che ci sono nell'economia e nel decidere ma magari oggi che quell'albero produce solo dieci oggi quell'albero può produrre solo dieci mele e beh io ti spingo ti induco non ti obbligo perché non siamo in un'economia pianificata siamo in un'economia di mercato quindi ti spingo ti induco magari a consumarne un po' di meno cioè invece che quindici che siete in quindici cerco di convincere qualcuno oppure tutti a consumarne in totale esattamente dieci e quelle che non consumi oggi perché tu ce l'hai del reddito disponibile puoi comprarle cioè abbiamo tutti un euro ebbene quell'euro te lo metti da parte e lo utilizzi per consumare di più in futuro per chiedere quella mela alla quale tu oggi hai rinunciato viceversa se oggi arrivano solo cinque persone a chiedere quelle dieci mele cos'è che può succedere il prezzo delle mele non sale più ma scende ecco allora che io ti spingo ti induco a quegli altri cinque che oggi non vogliono mangiare la mela e potrebbero ti convinco ti induco non ti convinco ti spingo a mangiarla e com'è che fa la politica monetaria a fare tutto questo lo fa attraverso i tassi di interesse i tassi di interesse come abbiamo detto prima sono in un mondo fatto di mele sarebbero le mele in più che ti chiedo se ti presto delle mele o le mele in più che ti chiedo o che io ti chiedo se ti presto delle mele cambiamento dei tassi di interesse sostanzialmente agisce sulle decisioni di famiglie e imprese sostanzialmente in due modi dal lato delle famiglie immaginiamoci di essere una famiglia che oggi ha un reddito rimaniamo nel mondo delle mele ma lo possiamo fare con la moneta facciamolo con la moneta diciamo che ho un reddito di mille euro al mese cos'è che io famiglia devo fare ogni giorno quando penso in termini economici diciamo quello che io mi chiedo quando mi arriva questo reddito io ho lavorato vengo pagato con mille euro e io mi devo dire ma di questi mille euro quanti ne consumo oggi quanti ne utilizzo per comprare quelle mele oggi e quanti invece li risparmio li metto da parte famosa riserva di valore per comprare in futuro queste mele ebbene se risparmiando cioè non utilizzando oggi quella parte dei 100 euro c'è una riserva di valore nell'economia che mi permette di avere più euro rispetto a quelli che io avevo oggi ad esempio rinuncio a 50 euro compro una riserva di valore ad esempio un titolo di stato o un'azione o un quadro perché? perché mi aspetto appunto che siccome c'è un tasso di interesse vengo remunerato per rinunciare a consumare oggi quelle 50 euro ebbene in futuro ne avrò magari 55 perché il tasso di interesse è del 10% immaginatevi che vi dica mettiamo un tasso di interesse del 50% significa che in futuro invece che quei 50 euro avrò 50 euro più 20 o lo alzo ancora di più quello che voglio dire è che cambiando i tassi di interesse nell'economia la banca centrale non cambia i tassi di interesse nell'economia ne cambia solo uno in genere ma attraverso quel sistema di tubi dell'acqua e nell'economia attraverso quello che si chiama la trasmissione della politica monetaria se la politica monetaria cambia questo specifico tasso di interesse poi si cambiano anche tutti gli altri nell'economia ebbene se i tassi di interesse nell'economia salgono come sta succedendo oggi perché perché la banca centrale fa aumentare perché vuole spingere le persone a consumare di meno oggi perché perché se risparmi se hai un reddito che ti permette di risparmiare ovviamente cosa farai? Sarai indotto a consumare di meno oggi sono quelle dieci mele non puoi arrivare con quindici euro per avere più mele sono solo dieci quegli altri cinque euro mettili da parte li userai poi in futuro questo è un meccanismo poi c'è anche un altro meccanismo però perché io magari oggi non c'è io quella parte di reddito che posso risparmiare immaginiamoci che io oggi anziché quei mille euro ne ho solo cinquecento ebbene e mettiamo che io ero abituato a consumare oggi per mille euro cosa dovrei fare? mi dovrei indebitare la banca centrale aumentando i tassi interessi sostanzialmente spinge anche le persone a indebitarsi di meno quindi mettere da parte per quelli che hanno il reddito in grado di consumare di più quelle che hanno un reddito invece inferiore alla possibilità di consumare quella quantità a indebitarsi di meno dall'altro lato il meccanismo è simile con le imprese le imprese in genere si indebitano per produrre di più ebbene e questo produrre di più è parte della domanda e sostanzialmente quei tassi di interesse quello che cerca di fare è far questo è fare in modo che ci sia sempre una domanda di beni che coincida con la capacità di produrre beni dell'economia so se qualcuno di voi magari l'ha sentito qualche un annetto fa più o meno un un membro della banca d'Inghilterra della bank of England fece una dichiarazione che creò uno scalpore pazzesco perché lui semplicemente disse questa cosa qua cioè disse se la nostra economia in questo momento è in grado di produrre solo 10 mele e noi continuiamo a chiederne 15 l'unico effetto che abbiamo è che i prezzi salgono c'è inflazione e lui lì sostanzialmente lì disse quello che fa la banca centrale cioè aumenta il tasso di interesse cioè dice guardate che non è che la banca centrale è cattiva cioè l'economia è in grado di produrre quello quell'albero è in grado di produrre 10 mele non siamo in grado di consumarne di più ti posso fare due domande su questo una facile e una difficile la prima è un po' istintiva io mi rifaccio sempre all'antica Roma perché mi piace particolarmente mi viene in mente l'imperatore Diocleziano che in un periodo di posso dire scusa solo una cosa voglio completare la cosa perché è importante tornare solo una cosa sull'inflazione e tutto questo perché cioè alla fine uno potrebbe dirsi vabbè ma che mi importa dell'inflazione ebbene perché l'inflazione è proprio la tassa più ingiusta che c'è perché l'inflazione che cos'è che fa allora chi ha riserve di valore cioè chi ha dei risparmi ed ha dei redditi alti è in grado di ottenere quelle riserve di valore quelle forme di investimento si dice anche quelli che hanno diciamo i redditi più alti che proteggono dall'inflazione la maggior parte delle persone che può risparmiare che risparmia in parte in genere lo fa con delle riserve di valore che non ti proteggono dall'inflazione la riserva di valore se vogliamo non più più comune però che molti hanno soprattutto chi ha i redditi più bassi la utilizza di più sono le banconote la banconota ha una caratteristica che non ti protegge mai dall'inflazione perché perché una banconota da 100 euro anche domani è una banconota da 100 euro non ha un rendimento o un tasso di interesse che ti compensa per l'inflazione che c'è nell'economia un titolo di stato ad esempio oggi rende il 5% all'anno dico un numero così non so esattamente quanto sia ma non è rilevante ebbene quel 5% non è un caso che sia molto simile come numero al livello di inflazione perché perché questa tipologia di riserve di valore hanno sostanzialmente quella funzione cioè di compensarti per il fatto che ci può essere inflazione nel tempo poi ci sono altre riserve di valore che ti proteggono ancora di più quindi da un lato chi ha i redditi più bassi in genere se anche è in grado di risparmiare ebbene lo fa in genere con degli strumenti dove l'inflazione li colpisce ma poi soprattutto ci sono i beni di consumo poi quella parte che viene invece utilizzata per comprare beni e servizi ebbene in generale pesano molto di più su chi ha un reddito più basso il fatto che ci sia un'inflazione di un certo livello perché in genere poi l'inflazione va a colpire cos'è che va a colpire va a colpire quello che si chiama l'indice armonizzato dei prezzi cioè un paniere di beni che viene utilizzato per misurare l'inflazione e questi beni sono i beni rappresentativi della società in un dato momento questo significa che sono quelli che in genere consumiamo tutti quindi sono quei beni che il cui prezzo effettivamente in genere sta crescendo infatti mi ricollego esattamente perché l'imperatore Diocleziano in un periodo di inflazione terribile tra la fine del terzo secolo e l'inizio del quarto emette un editto e dice da oggi in poi questi sono i prezzi massimi un chilo di grano costa 10 sesterzi un litro di vino ne costa 20 eccetera eccetera questa misura Diocleziano è l'uomo più potente del mondo praticamente un monarca assoluto eppure questo editto fallisce miseramente perché non si può imporre un calmiere dei prezzi per decreto perché abbiamo bisogno dei tassi della politica monetaria non sarebbe più facile risolverla così perché allora non ti saprei dire dell'economia ma oggi perché viviamo in un'economia di mercato quindi in un'economia di mercato semplicemente quello che funziona è che c'è una domanda e c'è un'offerta di beni e io io non io ma chi gestisce la moneta non vuole imporre non ha neanche il potere proprio nessuno gli ha dato il potere che dipende dal tempo come va quindi non è controllabile non è controllabile però quello che io posso cercare di fare non io di nuovo ma la banca centrale con la politica monetaria può cercare di fare quello che le ho detto cioè di influenzare la sua domanda di mele versa l'acqua nel laghetto versa l'acqua a una certa temperatura in modo che non è controllabile esattamente infatti la domanda o l'offerta quello che succede all'albero anche quello che oggi in realtà non è tanto un problema di numero di persone più alto che chiede dei beni rispetto a quelli che ci sono quello che è successo in Europa è una cosa un po' diversa è stato come fosse venuta della grandine che ha distrutto un certo quantitativo di mele cioè quello che è successo e c'è stato insieme già prima ma poi in coincidenza con l'invasione russa dell'Ucraina un forte aumento dei prezzi del gas del carburante e che cos'è questo? questo in economia si chiama uno shock cioè qualcosa di non prevedibile che colpisce non la domanda ma colpisce prima di tutto l'offerta cioè colpisce le imprese nel senso colpisce c'è la capacità delle imprese di produrre quello stesso numero di beni e servizi che produceva prima a quel prezzo che utilizzava prima perché? perché nel momento in cui aumenta il gas nel momento in cui aumenta in quel modo drammatico il prezzo dell'energia in generale ebbè quello significa che per produrre quella stessa quantità di beni e servizi l'impresa adesso ha un costo più alto quindi è una situazione particolarmente complicata però ti faccio l'ultima domanda perché mi dicono che tra 5 minuti dobbiamo chiudere che è la più difficile forse più provocatoria perché la politica monetaria si chiama politica monetaria non a caso tu l'hai esposta come un meccanismo tecnico principalmente che però è fatto anche di scelte quindi la banca centrale si può aumentare i tassi per controllare l'inflazione ma dipende anche dal ritmo con cui lo fa sappiamo che la BCE è stata un po' criticata anche dall'interno per il fatto che i tassi sono aumentati in modo molto diciamo repentino insomma quindi cosa ci puoi dire su questo perché come vengono prese queste scelte come vengono purtroppo in poco tempo è difficile ma cercherò di spiegarlo quello che è successo proprio la politica monetaria come ho detto cerca di rispondere a questi cambiamenti che ci sono che possono arrivare o dalla domanda o dall'offerta quando il cambiamento arriva dalla domanda cioè arrivano 15 persone anziché 10 o quelle 10 chiedono più mele di quelle che l'albero produce è molto facile cioè molto facile diciamo che è relativamente più facile io li induco a chiederne di meno ma tanto ci sono quelle 10 mele quando succede invece qualcosa come quello che è successo oggi cioè non ci sono più quelle 10 mele ma ce ne sono solo più 8 e lì è un problema perché la politica monetaria non influenza mai l'offerta influenza sempre la domanda con quel meccanismo che vi ho detto ci induce a consumare di meno e quello che succede quello che succede in situazioni di questo tipo quindi è se voglio mantenere i prezzi stabili devo indurre la gente a consumare di meno ma già ci sono anche meno mele che vengono prodotte io sto inducendo sostanzialmente l'economia a crescere di meno in quel momento quindi quando succede una cosa di quel tipo diciamo quello che ti prescrive la politica monetaria è non intervenire all'inizio perché se quello è un fenomeno temporaneo finisce la grandine domani e tra due giorni ricrescono le mele tu saresti un pazzo se induci le persone a consumare di meno lo stesso domani ci saranno quelle due mele è inutile che io faccia qualcosa e siccome la politica monetaria agisce attraverso quel sistema di tubi di dighe e una volta è messa l'acqua a una certa temperatura passa del tempo perché arrivi al laghetto così come le decisioni sui tassi di interesse in genere influenzano le decisioni di famiglie e imprese con un certo ritardo gli studi dicono che questo ritardo è quasi un anno e mezzo due tre dipende dalla situazione quindi in quella situazione ci si aspettava che questo evento l'aumento del prezzo del gas del petrolio sarebbe stato temporaneo non c'era all'inizio la guerra in Ucraina non c'era l'invasione scusate in Ucraina quella arriva a marzo ma i prezzi iniziano a salire già prima poi arriva la guerra e questo cosa fa? rende questo aumento dei prezzi dei beni energetici più forte e più duraturo a quel punto perché la banca centrale interviene in questo modo così aggressivo? perché a quel punto c'è il rischio che si instauri un fenomeno per cui non solo i prezzi dei beni energetici aumentano ma tutti i prezzi aumentano e siccome non tutti i prezzi aumentano contemporaneamente c'è un problema un rischio che continui questo fenomeno nel tempo si allarghi sempre di più e l'inflazione non sparisce dall'economia e quindi in quelle situazioni tu devi intervenire in modo molto deciso molto forte in un periodo molto piccolo ma con l'idea che tanto più forte è il colpo che dai diciamo l'impulso che dai e tanto meno poi dovrà durare e tu in pochi minuti sei riuscito a esprimere un concetto molto complesso quindi ringraziamo il dottor Ferrero per la sua chiarezza e per il suo intervento grazie grazie a te e noi adesso dobbiamo lasciare il palazzo delle esposizioni perché chiude però vi ricordo la rassegna continua martedì prossimo ci vediamo con il dottor Brollo dell'Università di Verona per la moneta virtuale tra lo scudo di Marche del 500 e le criptovalute quindi ne vedremo delle belle buona serata a tutti e grazie grazie per le domande grazie a tutti